Sì, abbiamo giocato una buona partita, è stata bella da vedere, tutte e due le squadre si volevano superare e quindi non ci sono stati palli tattici, mi è piaciuta come si è svolta e quindi queste sono le partite dove tutti i giocatori vorrebbero giocare, dove non esistono tatticismi nel senso che nessuno fa melina per cercare di portare a casa un risultato, la mia squadra è stata brava secondo me non nei primi 30 minuti che ha giocato benissimo, è stata brava nel momento che era andata sotto poteva crollarci con mondo addosso invece ha rimontato subito con il cappello che gli è sbattuto addosso però dopo abbiamo avuto altre due occasioni secondo tempo per chiudere però ci sono partite che meriti di più, ci sono partite dove meriti di meno, ho preso tre punti e quindi alla fine si compensano I due traverse sono per voi un rammarico? Sì ho detto, mi viene da dire, faccio l'esempio di San Benedettese che abbiamo vinto con due tiri in porta e lì forse abbiamo meritato di più, oggi con qualche tiri in più non abbiamo preso la vittoria però venire a Salò, una squadra che il direttore ha costruito bene con un allenatore importante che vuol puntare nelle posizioni alte, venire qui e giocare a questo livello mi sembra che noi siamo sulla strada giusta perché io sono venuto a vedere Pordenone e Salò, mi sembra che Pordenone abbia fatto molta fatica con il Salò noi ci siamo giocati esattamente per cercare di... Senta, mi chiedo una cosa, i rammari con un po' sempre con l'ha finito, no, considerando i risultati delle altre forse nel calcio i rammari ci sembra... poter migliorare quella posizione che gli obiettivi chiaramente ti ha vinto per il primo tempo l'avete giocato veramente la capolista essere i primi adesso o secondi appunto dalla capolista mi sembra che a me non mi sposti nessun equilibrio quindi è chiaro che ho costruito una strada che dobbiamo percorrere quella di stasera tutti vorremmo essere i primi nella vita però penso che l'importante è avere una identità come abbiamo avuto qua nel senso che abbiamo giocato secondo me è un calcio importante poi ho detto è meglio essere i primi ai 2 maggio che è stasera e festeggiare dopo 30 anni dove la come l'altra settimana, stasettimana abbiamo un turno favorevole fra virgolette sulla carta, noi incontriamo il mestre che è una squadra ostica loro vanno a Vicenza quindi sono convinto che sulla carta è più favorevole a noi però poi bisogna conquistare la vittoria col mestre loro dovranno andare a cercare a conquistare una vittoria col Vicenza come noi oggi diceva Renato, noi giochiamo col Gupio, il Padova gioca col Salò sicuramente il Salò batterà il Padova e tutti i discorsi che si fanno al Bar anche noi allenatori li facciamo con i giocatori però poi penso che la cosa bella di questa squadra è l'identità che chi esce e chi entra non si capisce qual è il titolare e qual è la riserva e la voglia di giocare a calcio perché poi mi danno dei difensivisti perché non faccio giocare le squadre oggi mi sembra perché mi viene 40 minuti non qua, ho detto in generale, non qua Padova, in generale mai c'ho questa etichetta e quindi sono contento perché come si sta esprimendo la squadra e i giovani perché poi Capello è un 95, tutti lo facciamo un esperto ma è un 95 che insomma se vogliamo trovare un difettino sì, le punte che non fanno bene no, 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 vabbè, lì è stato bravo Caglioni, gli era presa la grande no, io direi che fosse il secondo gol l'imbucata lì si poteva forse io mi sono arrabbiato se Capello, vuoi dirti così a fine primo tempo alle due punte mi sono arrabbiato con loro la seconda palla lì è da prenderle come due punte c'era la punta, non il capello, ma c'era Guido che doveva prenderla parte con la falla al piede Emerson e abbiamo detto che lì si fa un vecchio fallo tattico e finisce ecco, dobbiamo crescere anche su questo siamo un esperto ho sentito il suo regore come si dice, perché è molto il passo abbastanza di due allora, io ho detto dalla panchia dicevo che non c'era ma non ho visto niente quindi ho detto, però il mio giocatore mi ha detto che non c'è stato contatto quindi voglio vederlo alla televisione ma non è stata quella la sconfitta con la vittoria noi dobbiamo accettare l'operato dell'argo poi io mi arrabbio ma finisce lì ma anche per modo che deve scherzare però mi sembra che l'errore del secondo gol nasce proprio da una caccia alla caccia della seconda palla che doveva esserci con un po' più di cattiveria specialmente con un campo così secondo tempo abbiamo sistemato qualcosa e secondo me ha avuto meno situazioni per cercare di andare a fare gol al salò temevi il meteo perché dicevi non abbiamo mai giocato in queste condizioni sì, sì, era la prima volta che facevamo un allenamento secondo me nel primo tempo forse anche la vostra fisicità mi ha dato una mano soprattutto in mezzo al campo non so se la interpreti così anche il vostro grande primo tempo secondo me no perché le... faccio un piccolo parentesi Carlo che era quello più fisico ha sofferto di più di che gli altri che erano meno fisici secondo me questi campi qui non è che devi avere essere grosso 200 kg devi avere la forza nelle gambe e andare all'impatto giusto secondo me abbiamo cercato di giocare palla a terra come avevamo provato in settimana quello sì e poi c'era mancata un filtro diciamo davanti alla seconda palla però penso che poi dopo il secondo tempo abbiamo sistemato qualcosa abbiamo rischiato meno perché il primo tempo è vero che abbiamo fatto un primo tempo però qualche ping pong c'è stato cioè anche loro hanno avuto due o tre ripartenze un salvataggio di tre o una palla che è passata davanti alla porta che secondo tempo invece non c'è stata c'era una partita giocata a viso aperto un più po' che a me non è che mi entusiasma perché quando noi... se noi giochiamo gli altri diciamo giocherà però io non voglio farlo giocare la squadra avversaria però sono tutte cose da migliorare e da odiare però poi come ho detto era una verità anche per me vedere la squadra come si adattava a un campo pesante penso che il secondo tempo dopo la sfuriata dei fogliatoi abbia dato qualche effetto c'era Dimitri in tribuna? no 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 non è vero non è vero non è vero ce lo chiediamo tutti in vista dalla tribuna per come l'hai vista te è maggiore l'errore di chi nel lato o è più grande la parata del portiere? no no 50-50 anche perché lì secondo me deve portare avanti un po' più la palla e deve giocare raso terra il portiere fa i grandi miracoli quando gliela metti a mezza altezza poi lui ha fatto il miracolo a mezza altezza ma è difficile quando la palla va a raso terra lui è stato bravo il portiere ma non diceva però un 50-50 al merito di Caglioni che è stato in piedi fino all'ultimo momento e il merito di Chinellato che ha fatto alzare la palla io li avrei tirato la puntata se c'ero io sento la condizione di Pulzetti e ci dice qualcosa sui altri Pulzetti ha avuto una brutta distorsione alla caviglia con interessamento del Peroneo invece Guidone ha avuto un'elongazione dopo 10 minuti è stato hai voluto stare in campo testone perché poi mercoledì secondo me non lo avremo ha avuto una botta gli si è aperta la gamba ha avuto questa elongazione dice la faccia la faccia poi dopo 3 minuti mi ha chiesto al cambio quindi dopo 10 minuti del primo tempo nel primo tempo invece Pulzetti l'ha avuta su una ripartenza ha avuto una botta e lì è il campo pesante gli è andata via dalla caviglia ha avuto una distorsione neanche la caviglia hanno detto a Peroneo ma tu dici una brutta distorsione una brutta distorsione quando è alta è peggio di quando è bassa pensi che non ce l'avrei qualcuno per mercoledì no poi anche perché lui si piange un po' addosso no? c'è un male c'è un male c'è un male quindi ok andiamo a mangiare lascio il capello eh guardate il capello guarda il capello è anche oggi un gol importante perché come diceva il mister lì poteva essere una situazione eliziosa subito dopo il 2 a 1 o la riprendete più oppure non si sa come succede questa partita è stato importante riprenderla subito perché poi se non la recuperavamo subito diventava difficile in un campo così dura e pesante quindi è stato importante nel primo tempo rimetterla a posto poi ce la siamo giocata nel secondo ecco è stato veramente apprezzabile il modo in cui avete giocato in quel tempo nella prima mezz'ora perché non si pensava che riusciste a giocare palla a terra in questo modo su un campo del genere in posizioni del genere si all'inizio si riusciva a giocare ancora palla a terra bene a far girare la palla a terra e a seconda è iniziato un po' a difendere più difficile farla diciamo farla andare a raso a terra quindi si è iniziato un po' più con l'anti lunghi e la ricerca della seconda palla quindi il primo tempo abbiamo fatto abbiamo fatto molto bene secondo me comunque è un pareggio che magari sta un po' stretto però un punto pesante perché dietro l'hanno perso quasi tutte avete avuto solo Renate comunque un passo in più l'avete fatto? si era importante dare continuità di risultato è un punto importante perché potevamo sia vincere che perdere questa partita quindi siamo soddisfatti anche di questo punto per la mole di gioco che abbiamo creato sicuramente venire qui a Salò e giocare un calcio così non è da tutte le squadre c'è un po' di rammarica però è anche vero che abbiamo fatto un altro passo in avanti per cercare di stare la sulvetta e quindi venire qua e imporre il proprio gioco i primi 30 minuti potevano essere 3-0 trovarsi 2-1 poteva abbatterci invece abbiamo ricontinuato a giocare abbiamo fatto il 2-2 nel secondo tempo abbiamo avuto due occasioni importanti per vincere la partita però come ha detto il Presidente prima che ho sentito certe volte puoi raccogliere di più qualche volta meno però l'importante è giocare così con una squadra che è stata costruita anche loro e poi per vincere per rimanere alte e quindi c'è una crescita sicuramente sul piano del carattere del gioco oggi questa squadra che finché il primo tempo c'è la possibilità di giocare c'è la possibilità di giocare quanto dubbio un po' per il rigore ed ecco per la testa dalla panchina come mi hanno detto i miei ragazzi adesso la voglio vedere domani mattina non c'è stato contatto però un po' di strada che è vicino così e bisogna saperlo prendere però anche è vero che poi dopo alla fine al 25esimo stessa situazione era successa a noi e ha giudicato diversamente vanno accettati gli errori quindi non è questo sicuramente che non ci ha fatto avere i tre punti però è vero che c'è stata un'altra situazione secondo me importante quando noi siamo nei partiti un giocatore avevamo ridurre loro ha fatto un fallo brutto su Borzetti che lo prenderemo per mercoledì e lì mi sembrava forse un po' più munizione e c'era l'espulsione sono situazioni così però ho detto oggi ho visto la squadra che voglio io che lotta su ogni pallone che ha voglia di giocare a calcio che voglia di tenere la testa aggressiva siamo a un punto dalla prima adesso loro giocheranno sul campo difficile come abbiamo giocato noi noi giocheremo contro un derby contro la squadra ostica che anche oggi ha vinto e quindi cercheremo di riprendere i tre punti in queste tre partite cercheremo di fare il massimo e ho visto anche oggi Pordenone che diciamo che era imbattibile ha perso 4 a 1 in casa 4 a 2 adesso non mi viene da dire quindi vuol dire il campionato è difficile noi siamo sulla strada buona e quindi su questo sono molto contento ecco ma tornando a Polzetti quindi cosa si è fatto ma anche Guidone ha chiesto il cambio sì ho fatto due sostituzioni perché mi ha chiesto il cambio Guidone perché dopo 15 minuti ha avuto una botta gli si è aperto l'aduttore ha avuto una lungazione speriamo di recuperarlo per domenica Puzzetti va nel fallo la cabina è rimasta sotto e ha fatto una distorsione speriamo di perdere solo per questa settimana ecco la cosa perché quando ci sono queste falle qui secondo me vanno sanzionati con la manuzione ecco oggi il Padova ha dato tanto in ricavere di energie e si torna subito in campo e mi ha preoccupato no perché sicuramente questi due giorni non li farò lavorare come li farò lavorare in altre volte cercheremo di recuperare penso che anche poi il mestre abbia sprecato per venire con il passano una partita è chiaro che noi oggi viaggiando sul campo veramente sono un tempo molto pesante quindi ho paura che qualcuno possa avere qualche affaticamento però poi è vero che io quando vediamo il martedì si ammazza sul campo e domani invece il martedì cercheremo di recuperare quindi su questo non ho paura le pastole auricolari il smarcatore di oggi è un pari che sta stretto al Padova si diciamo che abbiamo creato tanto però su un campo difficile dispiace non aver vinto però comunque è un ottimo punto perché il campo il secondo tempo era abbastanza impraticabile abbiamo comunque continuato a giocare e niente siamo contenti a metà però abbiamo fatto un'ottima prestazione ecco soprattutto nel primo tempo belli proteggi poi nel secondo tempo anche condizionati dalle condizioni del campo insomma si semplicemente vedevano più lanci lunghi insomma meno giocate sì sì no diciamo che insomma i primi 20-25 minuti abbiamo avuto 7-8 occasioni più clamorose purtroppo siamo riusciti ad andare in vantaggio di più gol poi sono stati bravi anche loro a ribaltare il risultato poi sono stati bravi anche noi ancora a recuperare la partita diciamo che siamo un po' dispiaciuti perché abbiamo avuto tante occasioni abbiamo giocato anche bene nel secondo tempo si è giocato peggio in generale perché il campo ci racconta il progetto per i telespectatori e a chi lo dargli no no è stato bravo un bel cross poi è stato bravo guidò nel colpio di testa Nicola sarei spinta e diciamo che aveva detto il re no lo dedico sicuramente ai miei bimbi e a miei moglie sicuramente erano a televisione guardate la partita grazie mille ciao allora complimenti per il tuo gol insomma quanto mi ha segnare con fortuna no grazie sì ho stato fortunato a deviare questo pallone tirato da Bellinghieri verso la porta l'ho deviato importance è andata bene peccato per il risultato perché alla fine potevamo anche portare a casa i tre punti che qua sappiamo che è un campo difficilissimo però ci accontentiamo di questo pareggio l'hai colpita di taco sì tacco sì diciamo sì ma sempre alla mia famiglia che c'erano anche oggi come sempre grazie mille grazie grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille